Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, celebrato domenica 30 giugno ogni 2024 presso la suggestiva Villa dei Centocamini in Toscana, ha fatto parlare di sé per diversi motivi. La cerimonia, che si è protratta fino alle prime luci dell'alba, ha visto la partecipazione di circa 200 invitati e ha suscitato numerosi commenti sui social media. Tra i presenti, numerosi VIP del calibro di Giulia Delellis, Tony F e Andrea Damante. Ma l'assenza più notata è stata quella di Stefano De Martino. Secondo il noto esperto di gossip Alessandro Rosica, il motivo di tale mancanza sarebbe da ricercare nei rapporti non idiliaci che De Martino intrattiene con gli ex cognati. Non solo Stefano De Martino, ma anche Matteo Diamante e l'ex marito di Belen Rodriguez non sono stati invitati al matrimonio, probabilmente a causa delle tensioni e delle incomprensioni che hanno caratterizzato le relazioni passate. La presenza di Belen al matrimonio ha suscitato scalpore, soprattutto quando la sposa è giunta all'altare. Al momento, nessuno dei diretti interessati ha commentato pubblicamente l'assenza di De Martino. È probabile che nessuna dichiarazione verrà rilasciata in merito. Resta il mistero sulle ragioni che hanno portato alla non partecipazione dell'ex marito di Belen Rodriguez. Ma una cosa è certa.